Cari Rockers, è uscito EMP, il più grande e conveniente catalogo di abbigliamento CV Rock in Europa. Pensate, 212 pagine con l'abbigliamento bikers, choppers, stivali, giubbotte, cinture, borchie e tutto quello che avete sempre cercato per essere super rock and roll. Richiedete gratis la vostra coppia su natalerock.it oppure inviate un messaggio o un sms con i vostri dati a 349-666-7778 Il catalogo EMP arriva gratis direttamente a casa vostra per regalarvi un vero Natale Rock dove vedrete dentro un sacco di regali, magliette dei Ramones, dei Guns, la maglietta con il Jack Daniel sopra, tipica. Insomma, ragazzi, messaggio, ripeto, messaggio, sms al 349-666-7778 o natalerock.it Adesso, cari rockers, invece vi devo parlare di un catalogo di magliette di giubbotti rock punk perché è uscito EMP, il più grande e conveniente catalogo di abbigliamento e cilio rock in Europa Pensate, 212 pagine con l'abbigliamento bikers, choppers, stivali, giubbotti, cinture, borchie tutto quello che avete sempre cercato nel rock Richiedete gratis la vostra coppia su natalerock.it o inviate un sms con i vostri dati al 349-666-7778 Il catalogo EMP arriverà gratis direttamente a casa vostra per regalarvi un vero Natale Rock Quindi, ragazzi, rockers, sms al 349-666-7778 o natalerock.it Vale, e ora, visto che non si è mai troppo vecchi per il rock, oggi SpongeBob e Simpson lo urlano sulle incredibili felpe e magliette che trovate sul nuovo catalogo EMP, il più grande e conveniente catalogo di abbigliamento e cilio rock in Europa Pensate, abbigliamento rock, metal, punk, tribal, gothic, alternative e molto alto ancora Richiedete gratis la vostra coppia su natalerock.it o inviate un sms con i vostri dati al 349-666-7778 Il catalogo EMP arriverà gratis direttamente a casa vostra per regalarvi un vero Natale Rock Cari rockers, rockettine, perché è uscito EMP, il più grande e conveniente catalogo di abbigliamento e cilio rock in Europa Pensate, 212 pagine con Linkin Park, Dream Day, Slipknot, Rammstein e tantissime altre band con tantissimo abbigliamento super rock and roll Richiedete gratis la vostra coppia su natalerock.it o inviate un sms con i vostri dati al numero 349-666-7778 Ragazzi, il catalogo EMP arriverà gratis direttamente a casa vostra per regalarvi un vero Natale Rock and Roll Quindi, sms al 349-666-7778 oppure andate su natalerock.it Dove trovate delle belle magliette tipo Ramon, Sex Peace? Insomma, cari rockers, è uscito EMP EMP è il più grande e conveniente catalogo di abbigliamento e cilio rock in Europa Pensate, 212 pagine con AC DC, Metallica, Ramon's, Iron Maiden e tantissime altre band con l'abbigliamento super rock and roll Richiedete gratis la vostra coppia su natalerock.it o inviate un sms con i vostri dati al 349-666-7778 Il catalogo EMP vi arriverà gratis direttamente a casa vostra per regalarvi un vero Natale Rock Quindi, sms al 349-666-7778 o Natalerock